Ed ecco la nostra tavola da colazione E si rinizia un po' di salita, ci mancava I primi chilometri abbiamo fatto discesa totale Quindi oggi la tappa prevede 1380 km da fare Con l'arrivo a Piazza del Campo Tappa Fontana ad abbederarci un po' E poi ancora tante salite e tante difese Un po' di vigne toscane Direzione Gaglione a mangiare Ecco la nostra fotografa Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di gadget qua nel negozio eroico. La bicicletta del vero eroico è il vero eroico, furgoncino eroico. E ripartiamo tutti insieme! Ora si prospetta la famigerata salita al castello e dicono che è dritta così praticamente. Vai elettriche, sorpassate! Strada normale, eroica. Ovviamente siamo degli eroici e facciamo la strada più dritta. 17% ci aspetta. Ecco che si vedono già le mura. Ed ecco la vista al castello che Dario non ci ha fatto entrare! Esatto! Però, vista vigne e vista castello! Constantino! Ciao! Preve deviazione di tappa a Lucignano per vedere un borgo sulle vigne. Molto bello! È giusto un po' in pendenza, vedo gente che spinge bici. Il consiglio ce l'ha dato Gino, quello che abbiamo visto prima vestito da eroico, il vero eroico. E' uno dei venti che tutti questi giri li fa in un giorno solo con la bici del 1920. È giusto un po' in… Vedo le torri, e infatti cartello eroica, direzione Siena. Ultima salita per arrivare a Siena, l'abbiamo quasi fatta, ecco la porta. L'entrata, ed eccoci arrivati. 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 L'entrata, ed eccoci arrivati.